una breve presentazione di me visto che quest'oggi vi farò compagnia per appunto un'ora e mezza in questa lezione io sono nicolas guglielmi sono un senior manager in y so che avete già avuto modo di conoscere qualche mio collega e avrete modo di conoscere degli altri ancora nel corso delle prossime delle prossime puntate non all'interno di why mi occupo di quelli che sono i progetti di miglioramento delle performance soprattutto in ambito funzione afc quindi finance non solo quest'oggi ho pensato di diciamo disposizione in quattro macro macro categorie prima fare una parte di introduzione su quelle che sono le tecnologie abilitanti la digital transformation non investirò su questa sezione mezz'ora di tempo perché oggi il focus è sul tema dell'rpa dato che però molto spesso quando quando parliamo di questi aspetti negli eventi eccetera ho visto che era un tema di interesse ho pensato di inserire un paio di chart su questo e poi ho preparato un breve questionario online che facciamo assieme su su menti per capire se su qualcuno di queste avete piacere che che investa qualche tempo qualche minuto a disposizione per raccontarvi qualcosa in più fatto questo primo passaggio ci tiriamo su le maniche della camicia e entriamo nel nel vivo rispetto a quello che è l'argomento di oggi che è l'rpa quindi robot di process automation vi descriverò che cos'è che cosa può fare che cosa non può fare perché altrettanto importante sapere che cosa non può fare alcuni casi di utilizzo come si implementa l'rpa e vi farò vedere soprattutto alcuni esempi di video dimostrativi che non sono video lasciatemi dire di prevendita sono video di alcuni robot realizzati presso i nostri clienti che possono aiutare soprattutto chi non ha mai visto un robot in produzione a capire che cos'è sto cavolo di robot perché come vedremo non sono degli oggetti con delle sembianze antropomorfe che in qualche modo scignottano gli esseri umani ma sono dei programmi software che fanno un mestiere un mestiere ben diverso allora prima slide come dicevo le prime due sono concentrate su quella che è la digital transformation voi sapete che la digital transformation è una parola che vuol dire tanto e tutto e niente e negli ultimi anni se ne è sentito parlare in tutte le salse da quelli che sono i decreti sull'industria 4.0 a quelle che sono le iniziative sugli innovation manager in azienda per fare i progetti secondo gli sgravi fiscali eccetera 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 ormai la digital transformation la si sente in qualsiasi evento qualsiasi articolo di giornale sia di riviste specialistiche che non specialistiche qui ho tracciato alcuni che sono che sono le tecnologie le sei tecnologie in qualche modo più rilevanti o più riconosciuta all'interno di questa digital transformation dopo dopo le approfondiamo un po meglio soprattutto in relazione al quali di queste sono più mature quali sono meno mature quando sono quali di queste sono più disruptive quindi possono generare un cambiamento maggiore quali di questi sono meno disruptive ok le sei i sei pilastri sono cloud computing e iot che sta per internet of things l'internet delle cose gli erp di nuova generazione e tutta la digitalizzazione di quello che è la gestione documentale la parte di treasury quindi tesoreria e quant'altro machine learning e intelligenza artificiale machine learning artificial intelligence probabilmente frutto anche del come queste tecnologie sono entrate nell'immaginario collettivo un po' perché sono quelle che vedevamo nei film qualche anno fa un po' perché sono quelle che oggi ci troviamo ad utilizzare anche nella nostra vita comune chi di voi ha amazon alexa piuttosto che google home chi utilizza gli assistenti che sono all'interno di questi oggetti qua o degli iphone e quant'altro già si trova a parlare e a dialogare molto spesso con delle intelligenze artificiali quindi è comprensibile che questi aspetti siano già dati per assodati torno nella mia presentazione come vedete ho cercato di distribuire queste sei tecnologie in una matrice della quale mi come dire la firmo la firmo in autonomia perché non è una matrice di quelle stile matrice bcg o magic quadranti garner che sono state riviste battezzate pubblicizzate questa è una matrice che che ho pensato io assieme assieme a chi lavora con me e sostanzialmente cerca di distribuire in due dimensioni quindi uno è il potenziale di disruption di quanto può cambiare le nostre vite professionali e personali in questo caso direi più professionale che è l'asse delle x che vedete sotto quindi da sinistra a destra l'altro asse invece la maturità che oggi hanno queste tecnologie e va dal basso verso l'alto quindi verso l'alto trovo le cose più mature verso il basso le cose un po' meno mature ci sono poi altre tecnologie come la parte di big data analytics cosa significa big data analytics ci spendo due parole dato che era una delle due da approfondire la parte di bi quindi di business intelligence non è un concetto nuovo chiunque in azienda ha imparato ad utilizzare negli ultimi anni software di business intelligence nelle aziende meno strutturate si fa su microsoft excel con dei grafici nelle aziende un po più strutturate ci sono dei software ad hoc che fanno questo genere di analisi analisi